Ancora una truffa per un acquisto online. Stavolta la vittima è un 28enne di Piazzola che su internet ha trovato in vendita una console musicale. Il proprietario, 27 anni, chiedeva 200 euro. Dopo aver versato su una carta ricaricabile la somma, il piazzolese ha atteso per giorni l'arrivo della merce. Poi si è deciso a sporgere denuncia ai carabinieri che sono risaliti al colpevole e l'hanno denunciato.